Io ero lì per dare una mano a loro e mi hanno sparato per difendere la mia sorella perché ero guantato per il collo e per cercare di mandarlo via. Però lì per lì non mi sono accorto di nulla. Non si è accorta davvero una ferita sul polpaccio? No, lì per lì nulla perché ho reagito di istinto per mandarlo via. Visto che a mia mamma gli ha dato uno schiaffo, io ho reagito per difenderla. In questo momento non ha pensato al pericolo che correva? No, non ho pensato a niente perché ho soltanto reagito per difendere mia mamma. Soltanto lì non ho pensato altro, né a dolore né a nulla. Quando l'ho mandato fuori l'ho anche rincorso, ho fatto dieci pazzi più o meno. L'ho sparato a tre due colpi e poi mi sono accasciato. I colpi erano diretti a lei, altri o in aria? Allora, il primo colpo probabilmente sarà partito perché l'ho bloccato. Non avendo sentito il primo colpo e l'ho causato, però gli ultimi due colpi è stato veramente per allontanarmi, per tenermi fermo lontano da lui, per farlo scappare. Però mi sono accasciato. Ora ripensandoci ha paura? No, no, non ho paura. Io ero tranquillissimo, ero cosciente, l'ero tranquillissimo. Ho pensato soltanto di allontanarlo dal negozio. Di difendere la sua famiglia? Di difendere la mia famiglia. Per nasce indietro lo rifarebbe? Mille volte, lo rifarei mille volte. Come sta ora? Mi fa male la gamba, però sto abbastanza bene. Tranquillissimo, sono infermo, però aspetto la guarigione.